Bene, non è stato quello che tutti aspettavano nella partita con la Fiorentina, purtroppo abbiamo perso tre punti a casa, quindi dobbiamo pensare a Napoli, però è stata una partita un po' particolare, però posso dire che stiamo crescendo, però non possiamo buttare i punti così sempre fuori perché sono punti importanti per la fine del campionato. Purtroppo abbiamo perso, comunque adesso abbiamo una partita molto importante contro il Napoli, pensiamo da vincere. Mi sono dispiaciuto per il caso del rigore e anche per la sconfitta, perché sbagliare un rigore purtroppo non è al massimo, però io sono il rigorista, ero lì, quando sono in campo sono il rigorista, quindi non ho nessun problema di tirare, purtroppo ho sbagliato e se capita ancora di altre occasioni, se sono il rigorista tirerò pure altri. Cercherò di farlo ogni tanto, io non è che ogni tanto, però ci metto tutto, purtroppo la palla è andata fuori, ma non posso dire che non mi sono messo al 100% per tirare, perché in allenamenti sempre mi alleno, quindi mi alleno sempre per fare nelle partite. Quindi, tra l'altro, un giorno prima della partita ho calciato, ho segnato nei rigori, però va bene così, è andato così storto, però adesso c'è un'altra partita importante, il Napoli. Magari se succede ancora un rigore posso provare di tirare e magari segnarlo. Io sono tornato dopo tanto tempo fuori, sono andato in nazionale, poi ho giocato le Olimpiadi, ho giocato gli amichevoli, poi sono tornato, purtroppo mi sono infortunato, era da un po' che ero fermo, sto tornando, però non posso dire che sto tornando, sono tornato, sono qui, però io non sono mai andato via, però sono sempre stato qua a lavorare duro, adesso sono andato a giocare quello che mi fa godere sul campo, quindi posso dire che al 100% arriverò quando tutto andrà tutto bene. Il Napoli viene di una vittoria importante adesso e noi veniamo di una sconfitta, però saremo cattivi, saremo lì per lottare fino in fondo, per tornare a vincere, sarà una partita difficile perché giocare a Napoli è sempre difficile, però abbiamo la squadra per vincere loro rispettando loro, però cercheremo di vincere questi tre punti.